Secondo te quanto farà paura? Tanto, perché questi secondo me sono i veri horror paurosi Davvero? Quelli dove proprio ti... Cioè quando te li aspetti ti parte proprio il jumpscare Non i quelli enigmatici tuoi Questo ti farà veramente cagare ad osso Io non sono pronta Perché diciamo che l'affermazione che ha fatto il ragazzo di prima in chat Non mi ha messo molta sicurezza dicendomi Sicuro che sarà tranquillo come gioco Non so che... Stai mi sciomendo con delle bolle di sapone E c'è un problema di fondo Pronto? Buonasera! Come sta? Devo fare l'ordinazione Buonasera, come sta signore? Tutto bene? Welcome to the Crunchy Can's Restaurant What can I get for you? Oh fame, dammi un crabby patti con la carne umana, grazie Seleziono un ordine Human party, human party, human party Scegliamo il terzo, mi ispira Questo ragazzo si è addormentato sul ketchup Sembra divertente Dovrei provarlo più tardi Certo! Ho sempre desiderato addormentarmi sul ketchup la mattina La vita è morta, si è intossicato È quasi pronto Abbiamo finito i pattis, quindi ci vorrà un pochino di più C'è qualche modo per renderlo più veloce? Può andare al warehouse Warehouse presumo sia tipo il magazzino E prendere dei pattis Va bene? Fai attenzione, è molto scuro là sotto Certo! Perché giustamente io sono il cliente E devo essere io a farti lavorare più velocemente Mi sembra una cosa più che giusta e legida Chiaramente E qualsiasi cosa tu faccia è un andare nella stanza Alla fine del corridoio Ah C'è star sangue, regà! No, è il ketchup quello Dai, ricordiamo che è il ketchup Eccolo! Ma che rumore ha fatto? Ho fatto un po' Ma che è? Vabbè, ho preso la carne abbastanza in fretta Tieni qua, frate Ora vai nella cucina e metti una nella griglia Frate, ma sai che so? Sto lavando io nel negozio? Ma tutto bene? Ah, non è giusto Questo è sfruttamento minorile Bravo! Bravo! Non mi piace questa cosa Ma lo so Ma l'ho bruciato! Ma che è? Ma l'ho bruciato palese Ma che è? Ho detto che sono 98 Cioè, regà, ogni volta che lo faccio incazzare Ogni volta che si incazza mi aumenta di 10 dollari Ok, stai calmo Io non ho 100 dollari nella mia Nella mia... Nella mia tasca Ho solo 35 dollari Quindi mi stai dicendo che non hai i soldi per il panino? No, ti ho detto che io non ho i 100 dollari con me in questo momento Ma sei scemo? Ma che c'è? Tu stai c'è? Stavo cercando di rubare la ricetta segreta Ma ho felato E Mr. Krab mi ha messo in questa gabbia Come hai fatto ad essere bloccato anche tu in questa stanza? Hai provato a rubare la formula segreta? Il panino era troppo costoso E non aveva abbastanza soldi con me Comunque, provo a salvarti da questa gabbia Non ci provare Mr. Krab ha bloccato la gabbia E ha ingoiato la chiave Quindi buona fortuna in ogni caso Ah, fantastico Che devo capire Il codice Ora Ci sono tre pesci morti Ci sono tre pesci E una stella Potrebbe essere quello? Y Ah, no, aspetta Ah, ok Potrebbero essere i quadrati Le scatole Quindi ne sono quattro Uno, due, tre, quattro E palle Ne sono due Quindi due palle Ah, no, le scatole forse sono Eh no, sono di più Sono cinque Vedi? Nel big chilling Devo entrare per forza qua Perché non penso che ci sia nulla da fare Qua non posso fare nulla Ragazzi, ho il piede di Sporcus Ah, è vero Però posso liberare Mr. Cucumber Mr. Pisellino Fratello Dirato per avermi salvato Hai figurati, sembri tanto carino Andiamo a cercare una via Per uscire da questo posto Sì, ma questo qua Con questi occhi che mi guarda così Nel buio Mi fa cagare più sotto lui che altro Computer degli anni 50 Vabbè, Windows 98 Che cazzo è? Tutte le password Click this link to get a gift card No, 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 via, via No, schippa, schippa, frate C'è un video YouTube Cosa che non apro assolutamente Inbox Ah, no, non posso fare nulla Eh, raga Se io clicco È palese un jumpscare Di quelli così fenomenali Che ci fa Soprire le mutande Vabbè, è un video YouTube Dai Cinque Ah, c'è star codice Cinque Zero Scrivetelo Cinque zero Sì, come balla, oh Cinque zero Otto Cinque zero Otto nove, raga È la ricetta segreta, raga No 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 Fredè Oh, Cristo Dio No, 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 no Corri, 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 corri Corri, 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 corri E questa è la porta Che furdi? Ma che fordì? C'è stato ancora che c'è da mettere No, regà Non ce la posso fare Messo a ricoglioni No, 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 no Ma sono veramente morta così? C'è il link di segreto? Sono io? No, dimmi che ci sono altri finali, vi prego Non può essere finito così No, ah, ok, c'è un altro finale Ok, no, lo rifacciamo Ma perché io devo sempre finire Nei modi più di sto dream della vita? Alt più Q più S, vabbè, tua madre, dai Frede, fammi uscire Quindi proviamo Love o Life, ragazzi? Proviamo Love? Proviamo Love, dai No fucking problem No fucking problem Corri, 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 corri Ce l'ho fatta! Oddio, c'è stato Shrek Shrek, te prego, salva me Salva me, Shrek, muovite Mare, mare mio Che sta succedendo, ragazzi? Ahahahah S, Shrek, ti faccio compagnia, fratello, vieni Ti faccio compagnia, vai Sono qua, io ho chiaro anch'io Incredibile Vai Vai, fratello Perché? Ok No, fanno come Nervwest Che è pieno di ballare e volvere se sparano Sicuro Ragazzi, che sta succedendo? Io Lo sto vedendo Ma il Dio Ma sto stai vedendo No, vabbè Il gioco dell'anno Ma questo è il gioco della vita Ma questo è il gioco della vita Io voglio conoscere i developer di questo Di sto gioco E chiedegli di farne uno Che dura 5 ore Anzi, 5 giorni Ma quando ha fatto la faccia di The Rock Ma stai scherzando? No, regà Gioco migliore dell'anno Gioco migliore del 2k23 A mani basse Sapete quanto l'ho pagata sto gioco? 5 di nostalghe dollari Per 20 minuti di gameplay 5 dollari, regà 2 sub 5 dollari ho pagato sto gioco Anzi Scusatemi 5 dollari più un euro di Più un dollaro di tasse 6 dollari 5 dollari 6 dollari